Un tesoro sotto i vigneti della Valpolicella, sì, hai capito bene, una splendida villa romana scoperta nel 1887, ora fa parte dei vigneti di una cantina ed è visitabile tramite visita guidata. Si possono ammirare i mosaici riportati alla luce, che rappresentano anche il logo del buonissimo vino di produzione della cantina, dove è possibile fare anche delle fantastiche degustazioni. E tu conoscevi questo posto? Ci troviamo da Villa Benedetti a Negrar.